domenica 21 settembre è il giorno in cui si conclude il festival a milano e anche a torino ma a milano vorrei segnalarvi naturalmente il concerto dell'orchestra nazionale della radio polacca con christian simmerman che eseguirà il quinto concerto di beethoven questo sarà sicuramente l'occasione memorabile straordinaria che calamiterà l'attenzione di tutti i musicofili ma accanto a questo vi vorrei segnalare anche una cosa che sta come dire un pochino timidamente in disparte che invece merita attenzione si tratta di una non saprei neanche come definirla un'operina un piccolo lavoro quasi si potrebbe dire un radiodramma una cosa di questo genere che si intitola le lacrime di geremia ne è autore carlo galante un giovane compositore non proprio giovanissimo insomma io continuo a chiamarlo giovane perché fu mio allievo tanti anni fa e allora rimane sempre un rapporto di questo genere però in realtà si tratta di un compositore che è molto maturato ha acquistato una grande direi una grande esperienza e una certa elevata qualità nella sua scrittura musicale che ha scelto di fare questo interessante di scrivere un questo lavoro questa operina questo questo piccolo oratorio chiamiamolo così per soprano mezzo soprano clarinetto e quartetto d'archi su testi si delle lamentazioni di genere mia profeta ma che si intrecciano con un testo scritto da andrea kerbacher che cos'è il soggetto di questo è quella sciagura che si ripete ormai quasi quotidianamente cioè quella dell'affogamento dei poveri emigranti che attraversano il canale di sicilia eccetera ecco partendo da una di queste situazioni tipo e non c'è giorno che alla radio leggendo il giornale noi troviamo una notizia di questo genere anche questa mattina prima di iniziare questa chiacchierata con voi ho sentito una terribile tragedia di questo tipo ebbene la pietas in questo caso del compositore e quella dell'autore del testo andrea kerbacher si sono congiunte in un certo senso per elevare quasi una specie di preghiera in memoria di questo per mostrarci come queste vittime per lo più anonime che scompaiono non si sa nulla il mare le inghiotte eccetera meritino questa pietà che trova una sigla forse nelle lamentazioni stigere mie profete veramente una delle sciagure del vivere odierno e che ci fosse un pezzo musicale scritto con questa abilità che lo rammentasse mi sembra veramente degno di nota grazie grazie grazie